Deroga del patto di stabilità per i comuni, sblocco delle assunzioni per gli enti che utilizzano i lavoratori socialmente utili e accompagnare al pensionamento i soggetti prossimi a questo traguardo, ma che vivono ancora nel limbo della legge Fornero. Sono le richieste formulate dal governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, ieri nel corso del tavolo interministeriale riunitosi a Palazzo Chigi. Per il presidente della regione il problema dei 5.200 LSU che in questi giorni hanno fatto sentire la propria voce si può risolvere solo così. E' stato chiesto anche un incremento per la storicizzazione della spesa dei precari, pari a 20 milioni di euro. Sono 15 anni infatti che LSU e LPU reclamano una soluzione definitiva al loro problema. Il tavolo interministeriale rimarrà permanente, ciò vuol dire che il governo regionale avrà un filo diretto con Roma. Il 12 novembre prossimo, alle 12, il Consiglio della Calabria discuterà ancora della situazione dei precari, ma come già anticipato, i sindacati non scendono dalle barricate e lo stato di agitazione rimane confermato. Dal canto suo il sindacalista della CGL di Scalea, Dario Pappaterra, ha commentato senza infame anello delle novità uscite dal tavolo interministeriale. L'attenzione quindi rimane alta. Sembra detto che ci siano le condizioni per poter dare una speranza agli LSU, ma vogliamo vedere concretamente come si comporterà il governo regionale. L'assemblea del 12 novembre prossimo sarà cruciale per il prosieguo della nostra azione di protesta. Tutto dipenderà da questa seduta. Per questo, a concluso, non entriamo nel merito delle decisioni prese ieri sera, ma attendiamo, speranzosi, che dalle chiacchiere si passi ai fatti. Situazione incandescente, quindi. I lavoratori socialmente utili anche rimangono con le orecchie tese. Per loro, che da mesi sono senza soldi e privi di garanzie per il futuro, la protesta d'oltranza rimane l'ultima chance.